Allora, per quelli che sono a casa in quarantena e che non possono venire a fare l'allenamento, oggi abbiamo fatto 9 postazioni, in realtà sarebbero 8 dove ci sono degli esercizi anche di forza. Possibilmente non ti ammazzare. Allora, ve li faccio vedere uno a uno velocemente così li rifate a casa. Vi prendete o uno sgabello o anche un marciapiede, se è possibile qualcosa che più o meno sia all'altezza della vostra spinta. Vi mettete in questa posizione, mettete il piede qua dove abbiamo l'attacco che sarebbe a metà, quindi metà tanzo. Vi mettete in questa posizione così e spingete solo con una ghialla e spingete su, ok? Cercate di venire su, quando siete verso la fine spingete. Poi, di questo poi vi dico quante farne. Li mettete di qua, nel piede e spingete. per 5 volte, 5 in una e 5 nell'altra. Bottiglie dell'acqua, 2. Potete fare due tipi di esercizio, uno, oppure così. L'importante è che non dondolate, rimanete sempre rigidi, ok? Poi, visto che lo sta facendo Riccardo, squat, se dovete farlo mettete un piccolo carico che può essere o eventualmente una bottiglia dell'acqua, oppure un manico di scopa. Quindi chiedi un po' di varicati, vi mettete il peso dietro, cercate di spingere, in giro così lo vedete, ok? Così nel frattempo che state a casa a fare la quarantena non perdete un po' di tono. Poi, di qua, corda, vi fate almeno in 5 minuti. Quindi partite, vi mettete qua e 5 minuti di corda. Poi, l'ultimo esercizio, lavoriamo su questa parte qua. Allora, lo sta facendo Alessandro, intanto ve lo spiego. Esatto, vi mettete sul tronco, cercate di mettervi in maniera sbilanciata, i piedi un po' più su e fate, esatto, una torsione, più è lenta e meglio è, perché così almeno lavorate di più su questa parte qua, anche gli obliqui, ok? Allora, se vi avanza del tempo, ok? C'è un altro esercizio che sono gli addominali classici, giusto per tenere un po' di tono. Siete a casa in quarantena, fate anche qualche esercizio in bici, magari qualche ripetuta, qualche sprint che vi avevamo già fatto fare durante i corsi, ok? Buona guarigione! Ciao! Allora, cacciato!